ce l'abbiamo la sigla utilizziamola allora un ben ritrovati ritrovati a tutti quanti allora siamo come al solito a questo appuntamento che periodicamente lancio spesso nel weekend di commento e quiz sapete la mia fissa è attenzione non abusate dei quiz online che ci sono sulle varie piattaforme ma fateli in modo intelligente in modo commentato ci si sta anche 10 minuti su un quiz quindi noi 30 quiz li facciamo in tre segmenti intanto vi ricordo i miei inviti alla preparazione vi metto dei link cliccateci e mettetelo fra i preferiti in particolare il metodo cima un metodo diciamo a cui ho dato il nome con un po di presunzione ma insomma abbastanza semplice quindi quando si studia molto sinteticamente la prima volta non si cerca di imparare si cerca di comprendere a grandi linee non si mettono pause non si interrompe il video si cerca di capire come leggere un romanzo poi si cerca di imparare poi si cerca di memorizzare e poi ci si deve aggiornare perché nel frattempo quando sono arrivato a memorizzare è cambiata la normativa intanto metodo cima e poi 10 scuse che ognuno di noi si accampa per perdere i concorsi questo è l'altro link vi invito a guardarlo intanto ringrazio perché siamo già 130 in nei primi secondi di avvio un po pochi like se volete dare like e iscrivervi al canale mettere la campanella delle notifiche fatelo subito per poter essere avvisati di quando c'è la diretta quindi anche la seconda parte la terza parte non mi chiedete quando sarà non lo so ancora intanto Elena lunedì all'orale avanti tutta sapete che esistono anche delle dei corsi specifici per l'orale adesso ve ne metto qualcuno di link per chi volesse diciamo fosse interessato eccolo qui il 928 929 930 allora 61.000 iscritti si stiamo crescendo la famiglia si sta allargando sono molto contento di questo allora oggi facciamo quiz tradizionali non quiz e alcuni quiz dalla banca dati omniavis commentati dove lo scopo è trovare le risposte sbagliate anzi mentre arrivano i ritardatari che magari non avevano la campanella delle notifiche l'hanno visto sui social mi raccomando iscrivetevi al canale gratis e mettete la campanella delle notifiche gratis attenzione Elena ho firmato il contratto da funzionario per il comune di reggio Emilia o la roba Elena complimenti un complimenti da tutti quanti se vorrai mandarmi un email mi fa piacere simone.chiarelli chiocciolagmail.com perché io ho un diario segreto diciamo dove quelli che hanno avuto successo quindi sono riusciti mando questo link che vedo soltanto io dove mi mettono i commenti a me ogni tanto quando uno si sente più stanco e più giudì morali dice ma va fantastica ma chi me lo fa fare i gioia ma le 4 guarda i commenti e dice no no ci devo essere anch'io insieme a loro quindi brava Elena se mi mandi l'email simone.chiarelli chiocciolagmail.com ti mando il link allora intanto ovviamente avrai provocato l'invidia del 90 per cento di quelli che sono qui perché insomma firmare il contratto da categoria D e quindi significa da appena entri inizia la prospettiva della dirigenza e quindi attenzione perché non è l'arrivo finale è un bel traguardo ma non è l'arrivo finale puntate alla dirigenza puntate alla dirigenza vi assicuro che il passaggio da funzionario a dirigente non è così impossibile bene se prendo i quiz dai bandi degli enti locali non va bene dipende come si fanno cioè non è il problema dei bandi il problema dei quiz è capire perché la risposta è giusta la risposta è sbagliata non tanto farne a centinaia non serve a niente imparare i quiz a centinaia assolutamente è un errore metodologico enorme intanto Maria Assunta dice si ha tutta la mia invidia giustamente dobbiamo essere ambiziosi dobbiamo diciamo puntare Paola dice io punto alla dirigenza ma è difficile deve essere difficile ecco ora faccio un po di di cappello introduttivo perché dovete essere orgogliosi che la pubblica amministrazione faccia le cose difficili dovete sospettare quando sono facili quando vedete dei scialtroni all'orale fare scena muta e prendono 28 lì è il problema della pubblica amministrazione non i concorsi difficili e vi dico una cosa diciamo non politica li corrette neanche i concorsi dove tutti vengono buttati fuori io li preferisco perché ho una grande ambizione voglio migliori non gli scarti e quindi puntate ad essere i migliori e non gli scarti vanno bene quiz di concorsando tutti vanno bene l'importante è farli con la testa non farli a raffica ok allora siamo oltre 200 quasi 100 like vi ringrazio a chi ha dato like intanto vedo tantissimi abbonati al canale a vari livelli ringrazio anche loro e tutti quelli che dovessero decidere decideranno di abbonarsi al canale allora vi dico come sono sono quiz medio facili ok per cui questo bisogna fare 10 su 10 ok ora facciamo i primi 10 10 su 10 poi ne facciamo alcuni un po più difficile poi una sorpresa per tutti quanti intanto visto che siamo tutti presenti vi ricordo che questa è la pagina dei quiz al momento non commentati quindi fateli solo come diciamo esercitazione per poi trovarla nei commenti ed è quello che utilizzerò vi ricordo per chi non si fosse ancora iscritto e vuole e ha la possibilità diciamo non è proprio dietro l'angolo siamo a galatina il 10 sono a galatina fisicamente non sarà online quindi non sarà video registrato non sarà trasmesso in diretta il 10 l'11 marzo libero gratuito convegno 10 mattina 10 pomeriggio 11 mattina sarà la mattina su procedimento amministrativo diciamo così anche se è riferita alla polizia amministrativa codice degli appalti il pomeriggio del 10 e l'11 marzo redazione degli atti amministrativi pensa di essere a bari non in questa trasferta ma sto iniziando piano piano a superare la mia pigrizia che è enorme nonostante quello che possa sembrare sono fisicamente molto pigro mentre non per fare le dirette e oltre al fatto che anch'io da dipendente pubblico ho i giorni di ferie che finiscono poi insomma qualche giornata al mare me la vorrei fare intanto maria assunta è già iscritta ti aspetto mi raccomando arriva anche prima che ci facciamo una chiacchierata e un selfie ho superato la prova scritta senza fare nessun quiz ma solo vedendo le lezioni del prof complimenti peccato la distanza nessun problema avremo tante altre occasioni sardegna è già prenotata la sardegna sarà forse la prossima tappa di qui a breve con un bel tour se riesco porto anche alessandro allora iniziamo questa commento con il primo quiz allora dovete rispondere nella chat dal vivo così vediamo il sondaggio quindi a b o c non rispondete nella scusatemi non rispondete nella chat scrivete nella riga blu che vi appare adesso in alto ok vi apparirà una striscia blu per il sondaggio relativo al primo quiz è un quiz facile reale uscito in una prova di concorso reale non ricordo da dove l'ho preso sicuramente uno degli studenti me l'ha mandato per molto spesso me lo mandano ok quindi vi ringrazio anzi chi ha delle banche dati o perché ha partecipato ai concorsi ha fatto accesso agli atti me le vuole mandare io le uso poi per fare queste dirette a galatina forse vengo bene michele pronti attenti via allora regole si usa il sondaggio quali tra le seguenti regioni dispone di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale la liguria il veneto o la sardegna in questo modo potete vedere anche dal sondaggio quanti la indovinano quanti non la indovinano se è facile o difficile diciamo che siamo quasi nella cultura generale qui è nel diritto costituzionale minimo sindacale però è il motivo per cui spesso molti studenti cosa fanno le prime parti dei libri non le leggono o le leggono superficialmente farò tempo permettendo eccetera eccetera probabilmente in estate o in autunno anche un video corso di storia d'italia storia giuridica d'italia preparatevi perché è importantissimo noi ci manca spesso questa parte qui non scrivete nella chat la risposta ma scrivete nella striscia blu dove già 132 alla faccia hanno risposto ilenia gli piacciono questo tipi di quiz non si vede la parte alta daniele devi uscire e rientrare uscire dalla chat devi andare nella chat dal vivo uscire e rientrare e vedrai la striscia blu in 142 hanno già risposto allora intanto diciamo che quali fra le seguenti regioni dispone di forme condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale allora vi faccio una domanda ed è il motivo per cui vi dicevo è bene stare anche 10 minuti su un quiz perché partono i neuroni in una sorta di brainstorming sapete brainstorming è una metodologia anche didattica per la quale si spara le prime parole che le prime cose che ci vengono in mente se io fra un anno vi facessi la domanda quali tra le seguenti regioni dispone di forme e condizioni particolari di autonomia cosa rispondereste questa volta scrivetelo nella chat dal vivo non nella riga blu vediamo chi di voi sta facendo i collegamenti tanto sergio vacanza al mare a ravenna non so se si riferisce a me o a qualcun altro ora ho vaghi ricordi di ravenna ma non me lo ricordavo con un mare come un mare particolarmente migliore del mediterraneo del tirreno io amo lo scoglio eh ve lo anticipo per cui chi mi invita lo sappia non amo la spiaggia tanne la pelosa ma perché c'ha gli scogli lì dietro in sardegna cosa vuole a cena siamo già alla corruzione con i pasti ma sapete chi di voi segue le mie dirette sa che purtroppo dal punto di vista alimentare vi deludo allora vediamo un po vediamo un po e poi chi volesse lo può scrivere come mai ho detto questa frase allora ci sono quattro regioni a statuto speciale mariella ne hai fatte fuori una non so perché ti rimane particolarmente antipatica tutte no tutte tranne la sardegna no quali tra le seguenti regioni dispone di forme particolari condizioni particolari di autonomia eccola qua stefania ora non so se qualcuno l'ha detto prima brava mariella si è corretta cinque regioni a statuto speciale il rispetto anzi se le volete scrivere scrivete le ricordate vanno dette anche in lingua straniera o meglio in lingua italiana perché francese tedesco sono parte della lingua italiana perché perché c'è la riforma dell'autonomia differenziata vi do una news una chicca che rappresenta diciamo un jolly un super jolly è stata dalla conferenza stato regioni approvato dato il parere favorevole sul disegno di legge di riforma dell'autonomia differenziata ora vi metto anzi forse alla conferenza unificata e non vorrei aver detto una sciocchezza no una sciocchezza diciamo un'imprecisione allora l'autonomia differenziata conferenza delle regioni no no la conferenza delle regioni eccola qua la conferenza delle regioni proprio mi sembra ieri 2 marzo 2 marzo giornata fondamentale nella vita amministrativa eccola qua vi metto il link ha dato il via libera che cos'è il parere della conferenza sapete che secondo il principio di lineare collaborazione quando lo stato adotta una normativa che coinvolge le regioni deve passare nella sede della conferenza in questo caso la conferenza delle regioni per il disegno di legge il progetto di legge anzi il disegno di legge governativo sulla riforma delle autonomie intanto videolina diceva che onuro sono contrari all'autonomia differenziaria ricordo con affetto videolina sardegna sicilia valle d'aosta trentino friuli anche la l'addizione il nome utilizzato non è completo però sono quelle diciamo nella sola lingua italiana il veneto che con il referendum ha chiesto maggiore autonomia quindi fa parte diciamo la risposta giusta alla domanda fra un anno quali fra le seguenti regioni sarà veneto e sardegna poiché questo quesito mi chiedeva soltanto la autonomia relativa allo statuto speciale adottato con legge costituzionale vi ricordo che solo regioni a statuto speciale hanno la legge costituzionale che approva lo statuto le regioni a statuto ordinario hanno lo statuto approvato con scrivetelo nei commenti qual è lo strumento attraverso il quale si approva lo statuto vedete come una domanda diciamo l'88 per cento di voi ha risposto bene forse quelli che hanno risposto male hanno detto hanno risposto troppo velocemente questa era molto semplice però se io la implemento ci ragiono brainstorming penso ad altre cose uso il pensiero laterale intanto 116 mi piace su 240 partecipanti legge costituzionale per le regioni a statuto speciale bene ma per le regioni a statuto ordinario ok la legge regionale non delibera di consiglio sì certo la legge regionale è approvata con delibera di consiglio è corretta anche quella risposta ma viene da molte regioni chiamata legge statutaria ok che ha una particolare forma di legge regionale perché ha e una maggioranza qualificata è un procedimento aggravato quindi a differenza delle altre leggi prende il nome di legge statutaria quindi mi raccomando lo statuto della regione se avete possibilità un'occhiatina anche se non fate i concorsi in regione bene la prima è andata con l'88 per cento quindi vuol dire che il 12 ha sbagliato probabilmente sono ancora all'inizio della preparazione ci mancherebbe nessun giudizio di valore di merito allora vediamo la seconda sempre striscia blu e la seconda è a norma dell'articolo 12 del dlgs 27 2000 gli enti locali esercitano compiti concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la circolazione dei compiti stessi fra le amministrazioni quali sono le parole mancanti interessante di solito questi quiz sono di inglese della lingua inglese politici e propagandistici conoscitivi e informativi ispettivi e coercitivi non andate ovviamente a guardare il tuel non vi serve tanto è anonimo il sondaggio che andate a fare quindi non cercate di barare a voi stessi stanno arrivando molte risposte ovviamente tecnicale la tecnica diciamo formalizzata da mio figlio tecnica ale alessandro vuole che si cerchi nelle risposte una parola che stona ok brava mariella ho trovato prima le errate qui non si può che trovare le errate perché secondo me la maggior parte di voi non si ricorda l'articolo 12 non è uno dei principali articoli è chi di voi sta seguendo chiarelli commenta il tuel fra l'altro siamo arrivati stamani mattina all'articolo 181 il corso code 094 ho commentato articolo per articolo ovviamente anche l'articolo 12 però non è un articolo spesso utilizzato ecco perché lo consiglio a chi ha una preparazione avanzata e non prendete il corso chiarelli legge la 241 il tuel o il codice degli appalti nuovo se non siete a un buon livello di preparazione perché non aiuta prima si impara si comprende comprendere imparare memorizzare aggiornarsi ok questa è la tecnica ok non usiamo le parolacce altrimenti vi tolgo dalla chat non mi piacciono ok non serve va benissimo richiamo a non scrivere in chat ma senza usare parole eccessive che non hanno necessità siamo fra persone che si stanno in parte divertendo in parte esercitando bene allora a norma dell'articolo 12 che cosa avremo scartato ovviamente come prima cosa gli enti locali esercitano compiti politici e propagandistici propagandistici suona strane conoscitivi e informativi ci sta ispettivi e coercitivi forse la parola coercitivi poteva sembrare un po strano concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la circolazione dei compiti stessi fra le amministrazioni ora che si fa si faciliti compi fra le amministrazioni obbligando le altre non è pensabile cioè ricordatevi sempre quando guardate un quiz e qui l'83 per cento meno di quello di prima ha indovinato quindi quasi il 20 per cento ha sbagliato che mi devo domandare ma di che sta parlando qui sta parlando di un comune che esercita i compiti riguardanti le proprie funzioni in modo tale da far circolare i compiti fra altre amministrazioni per cui ora che un comune vada a fare ispezioni nel comune vicino o obblighi il comune vicino è improponibile ok quindi pensate sempre ed è una strategia che consiglio di tradurre in linguaggio semplice ok di tradurre in linguaggio semplice la domanda cercare di visualizzarla ma che cavolo mi sta chiedendo ok quindi ispettivi e coercitivi no neanche da tempi del fascio è che non c'è questo compito perché in realtà compiti ispettivi e coercitivi ce li ha per esempio il ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei comuni ci mancherebbe in materia finanziaria ma fra comuni pari livello questo assolutamente no quindi questo diciamo che ci si poteva arrivare pronti con la numero 3 abbiamo il sondaggio attenti via qual è il documento al quale l'articolo 170 del tu el conferisce il ruolo di guida strategica operativa dell'ente locale il documento unico di programmazione il piano biennale anticorruzione o il programma triennale delle opere pubbliche intanto tiziana ha individuato da dove ho preso io non lo ricordo sinceramente perché come vi dicevo mi mandano tantissime messaggi e ringrazio tutti gli studenti che mi scrivono mandandomi materiale che io riuso riciclo perché è bene fare diciamo utilizzare quiz e anche domande aperte realmente somministrate e fra l'altro recenti tanto anche maria maria ci conferma che anche lei se lo ricorda ce l'ha in mente allora state rispondendo vediamo un po come stanno andando le risposte questa era un pochino più semplice più che medio facili direi molto semplici ma toni 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 stai attento perché a volte anche quelli semplici poi hanno delle insidie per cui si inciampa su una si è perso ok magari trovassi queste domande dei quiz commento sbagliato agata perché perché è una logica non concorsuale ok ora ne approfitto per spiegarvi questo che molto spesso non passa fra gli studenti voi non andate a un esame io alla patente di guida mi auguro che le domande siano semplici all'esame universitario mi auguro che le domande siano semplici a la maturità mi auguro che le domande sono semplici perché io voglio puntare al voto alto non me ne frega una mazza di quello che prendono gli altri io prendo 28 all'università se un altro prende 30 non mi interessa se prende 26 non mi interessa qui siete a una competizione più facili sono più avete probabilità di non successo chi ha una buona preparazione perché sarà più facile per chi non ha una buona preparazione rispondere a queste domande quindi le facciamo ovviamente ma dovete augurarvi che non siano così facili augurarvi ecco perché non si va a fare le banche data online di quiz facili che sono quasi autoconsolatori allora ma cosa non vi torna nella fase non scrivere in chat non è un problema si può scrivere in chat l'importante è la risposta datela nel sondaggio e poi in chat potete scrivere tranquillamente semplice ok ma vediamo se facciamo 10 su 10 non è detto bravo rudy sempre sul pezzo allora questo ovviamente la risposta giusta era il dup qual è il documento che conferisce ruolo di guida strategica e operativa chi di voi ha studiato sa che quel richiamo a quei due aggettivi allude alle due parti in cui è diviso il dup la b non poteva assolutamente essere uno perché il piano anticorruzione non è biennale due perché non esiste più almeno quello a livello di ente locale tre perché non è previsto nel tu el attenzione una delle cose da stare attenti è la domanda la domanda la parola più importante della domanda era l'articolo di riferimento siccome la normativa anticorruzione non è nel tu el la b la scarto subito non è nel tu el siccome le opere pubbliche sono nel codice degli appalti anche se l'articolo 42 le richiama in realtà nel tu el c'è un richiamo ma solo nell'articolo 42 non è nel 170 ok questo era un pochino più difficile quindi in questo caso chi aveva studiato subito andava a bomba infatti 92 per cento ha risposto bene ma non il 100 per cento come vedete come vedete allora andiamo a fare un altro sondaggio domanda numero 4 con la legge 190 si stabilisce che all'interno dell'unione dei comuni la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza sia prerogativa a dell'organo di indirizzo politico b del questore c del prefetto intanto mariella sto usando sto imparando a usare gli acronimi per ricordare ottimo a proposito di questo suggerisco a chi volesse c'è un bellissimo corso io lo consiglio veramente perché serve nella vita personale e anche per la preparazione concorsi che sono le tecniche di memorizzazione vi metto il link gr111 fateci un pensierino perché è divertente e aiuta tantissimo a memorizzare intanto vediamo le vostre risposte anche qui una buona percentuale risponde bene ma non l'unanimità c'è qualche errore perché ovviamente c'è uno specchiettino per le allodole su cui si può accadere intanto scusatemi non per insistere chi non lo vuole mettere non metta like ma se lo fate aiutate alla condivisione di questo video molti mi dicono allo scoperta tardi ho trovato per caso i suoi video ecco i like aiutano a indicizzare su google e quindi a favorire gli studenti che stanno cercando su google vario materiale a trovare magari materiale utile quindi per questo ogni tanto insisto per mettere like oltre che insomma autocelebrativo ma non è quello serve perché poi alcuni effettivamente a pochi giorni dalla prova dicono ah l'avessi scoperto prima mi sarebbe stato utile anche i video gratuiti al momento sbagliato quella dell'articolo 12 hanno ok nessun problema vedrai che non la non te la dimenticherai più ci sono cascata nel tranello e c'è il tranello allora questa attenzione pensavo che l'avreste indovinata in di più questa è quella più sbagliata in assoluto adesso vi do qualche altro secondo siamo quasi a 200 risposte attenzione 200 risposte vuol dire che quella che stiamo facendo adesso è quasi quasi una prova reale di concorso cioè voi state siete in una batteria in cui spesso ai concorsi reali non ci sono 200 persone e fra l'altro tutti studenti che si stanno preparando ai concorsi quindi super giù allo stesso livello quindi state attenti la prossima settimana orale al ministero della giustizia mio primo concorso avanti tutta ricordo che sul sito se cliccate sul motore di ricerca orale trovate diversi corsi ora vi metto il link nel caso vogliate valutare di prepararvi specificamente per l'orale l'orale colgo l'occasione mentre finite di rispondere a questa componente da un lato la conoscenza degli argomenti ovviamente questo non c'è dubbio però la capacità di esposizione perché all'orale 2 3 4 5 punti in più si hanno con la modalità di esposizione con l'uso dei jolly e con la sequenza corretta con i decaloghi memorizzati intanto benvenuto arcangelo a livello professionale intanto grazie a marcella per intanto grazie a te per i progressi che stai avendo complimenti per i progressi che stai avendo e ringraziamenti per me per aver contribuito allora vediamo un po vediamo un po avete detto nel 75 per cento quindi uno su quattro ha sbagliato ovviamente la c era lo specchietto per le allodole perché perché il prefetto l'organo di controllo l'anticorruzione eccetera eccetera grazie rudy grazie rudy un piccolo regalo di compleanno anche se è ritardo grazie grazie mille allora qui siamo appunto nell'anticorruzione la competenza è interna quindi andavano scartati la b ovviamente non aveva niente a che vedere ma anche la c che era però uno specchietto per le allodole ricordo lo specchietto per le allodole è quella risposta che richiama richiama concetti che subliminali che voi avete e che vi dice vieni vieni barrami clicca qui che il prefetto l'anticorruzione il prefetto lo stato eccetera eccetera c'è anche una componente psicologica ci mancherebbe altro lo stress va gestito anche quella quindi l'idratazione fare gli zuccheri la andare a sentire alcune prove orali non troppe nei giorni precedenti se una la possibilità ci sono una serie di di trucchi fra l'altro vi ricordo per chi fosse interessato molti lo usano la possibilità di fare lezioni individuali che io consiglio solo a chi è arrivato all'orale quindi non fate lezioni individuali prima non servono granché mentre quando uno è arrivato all'orale può essere utile pensare a delle lezioni individuali vi metto il link come al solito eccolo qua allora bene siamo arrivati adesso andiamo alla numero 5 la domanda numero 5 è ai sensi dell'articolo 3 del codice degli appalti cosa si intende per centrale di committenza l'associazione tra due o più enti finalizzata l'attuazione di un progetto una serie di progetti o determinate intese di natura commerciale o finanziaria l'ufficio centrale unico che gestisce le commesse interne di tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio internazionale c un'amministrazione aggiudicatrice un ente aggiudicatore che fornisca l'attività di centralizzazione delle committenze se del caso attività di committenza ausiliaria io mi sto preparando per un concorso all'asp per questo sbaglio quelle sul tuoi ci mancherebbe ma attenzione all'asp che non è lontana è dagli enti locali quindi io vi consiglio di studiare anche il testo unico degli enti locali quante domande serve andare a sentire prima secondo lei ma poche poche perché l'importante è capire la modalità cioè la commissione sta zitta o interviene fa estrarre a sorte fa scegliere la sequenza delle domande oppure chiede lei l'ordine fa domande aggiuntive dura dieci minuti come fa l'inglese una perché questo riduce la tensione riduce lo stress del diciamo del dell'incognito una volta che so questo ovviamente non è che mi migliora la preparazione la preparazione rimane dalla stessa ma ho meno stress nel sapere come si svolge la preparazione grazie 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 ai complimenti lo senti dire che si doveva alzare alle 4 l'ho preso per un folle ora sono 8 mesi che mi alza alle 4 benvenuto nel ospedale psichiatrico giudiziario Simone Chiarelli e in compagni a Rudy all'orale in sanità ha usato un sacco di giolli su materie non in programma grazie ai collegamenti che si possono fare con il full 112 assolutamente intanto questa è la domanda meno azzeccata come vi dicevo attenti attenti nei concorsi si parte tutti galvali facile questa gliela do di tacco e poi sac arriva la domanda che non ti aspetti con lo specchietto per le allodole intanto ottimo 166 mi piace vediamo se riusciamo a raggiungere i due gente che è una soglia che non ho raggiunto solo una volta io ho un orale il 29 sto proprio pensando di fare un salto a Bari a vedere assolutamente è una buona allora andate a vedere la prova orale del vostro concorso quello di altri concorsi non è che è molto significativo quello del vostro concorso si ritengo che se non avete la sfortuna di essere i primi di farlo è sempre utile allora 3 2 1 interrompo il sondaggio attenzione attenzione clamoroso 66 per cento cioè uno su tre la sbagliata perché la B era lo specchietto per le allodole l'ufficio centrale unico che gestisce a livello nazionale quella è una centrale di committenza il consip spa il mercato elettronico della pubblica amministrazione è una centrale di committenza ma non è tutte le centrali di committenza le centrali di committenza sono un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono centralizzazione la regione il comune capoluogo di provincia e se del caso committenza ausiliaria questa è diciamo è stata la più selettiva alla quinta domanda allora andiamo a fare la sesta pronti attenti via l'organismo indipendente di valutazione secondo la legge 190 2012 verifica che a i piani quinquennali per la prevenzione della concussione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale b i piani biennali per la prevenzione della corruzione e concussione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale c i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale siccome le parole da siano coerenti con sono tutte uguali non le sto nemmeno a leggere ok quindi concentratevi sul primo rigo che differenzia le varie ipotesi vediamo un po' allora intanto mi sono accorto che sono fisicamente ingombrante eccolo qua mi sono spostato un attimo alfonso nemmeno letta questa per la serie insomma basta una parolina basta una parolina per capirlo infatti qui diciamo che era abbastanza facile la cd como perché i piani quinquennali non esistono ma chi avesse risposto piani quinquennali ricordano qualcosa di sovietico i piani biennali ricordano il programma biennale servizi e forniture ma poi l'errore dell'a e della b c'è quella prevenzione della concussione o prevenzione della corruzione della concussione no si chiama anticorruzione anche se è di contrasto anche alla concussione ci mancherebbe altro ma la normativa si chiama normativa anticorruzione bene 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 ok vedo che tutti state commentando ottimo i piani quinquennali non solo di stalin sono durati fino alla fine degli anni 70 allora andiamo a vedere la numero 7 poi vi chiederò alla fine quante ne avete indovinate su 10 in modo tale da avere un'idea e sapere come vi collocate nella ipotetica gradatoria ricordo ci siete su youtube di mettere mi piace di mettere la campanella delle notifiche di iscrivervi al canale 7 ai fini dell'applicazione dei principi di trattamento dei dati personali di qual decreto legislativo 51 2018 è necessario che i dati personali siano a indicativi sommari ed aggiornati b sommari adeguati e definitivi c esatti e se necessari aggiornati wow 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 qui la vedo più difficile perché intanto un decreto legislativo un po anomalo è vediamo un po chi di voi ci va d'intuito qui bisogna andare ad intuito è perché chi di voi mi ha seguito sa che ho fatto anche un dei video commenti anche con l'avvocato thamos sul tema del trattamento dei dati personali questa è una particolare peculiare disciplina tanto anastasia ha vinto il c1 l'anno scorso complimenti spero che tu stia facendo il salto allora stanno arrivando le risposte vediamo un po queste risposte non scrivete nei commenti sulla chat scrivete cliccate sulla striscia blu nei commenti sulla chat scrivete altre cose ma non le risposte francamente non conosco il 51 2018 domani non lo direte più è questa la bellezza di fare i quiz non solo facili e commentati proprio per trovarvi nella situazione di dover approfondire alcune cose si tratta della l'alter ego del gdpr la normativa figlia di una direttiva nazionale nazionale di ricevimento una direttiva sul trattamento dei dati relativi alle indagini giudiziarie all'attività di polizia molto simile al gdpr è molto simile al gdpr ma a parte allora vediamo un po le vostre risposte e vediamo la risposta giusta abbiamo il 71 per cento che ha indovinato esattezza e se necessario aggiornati chi di voi ha seguito proprio venerdì ieri il video commento con l'avvocato thamos sa che abbiamo parlato di questi principi ovviamente nella b l'errore stava in quel sommari sommari anche se definitivi uno specchietto per la lodole e stessa cosa indicativi sommari vedete i due aggettivi che rendevano sbagliate la e la b questo sommari mentre aggiornati era uno specchietto per la lodole della risposta a che infatti uno su cinque ha dato questa difficilotta diciamo non proprio non sottovalutate il gdpr ecco questo ve lo dico perché con una buona preparazione sul gdpr questo si riusciva abbastanza bene a individuare l'errore ricordo cercate sempre l'errore mai la risposta esatta andiamo a vedere la 8 da chi viene esercitato il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 16 anni alla luce del regolamento 2016 679 a solo dal padre b da chi eserce la responsabilità genitoriale c dal garante della privacy c'è qualcuno di voi lo faccia è ognuno è libero di fare quello che vuole che spara a caso infatti appena metto il sondaggio tira a caso la risposta non è bene perché non vi serve anche se non conoscete la materia ragionare sulla possibilità di individuare la risposta è sempre utile io ho vinto due concorsi livello c vicino a casa è uno di a 40 km adesso non so quale scegliere non mi chiedete suggerimenti perché vi ho detto all'inizio della diretta io sono pigro però allo stesso tempo ambizioso quindi 40 km un'ora al giorno di andata un'ora al giorno di ritorno forse anche un'ora e mezzo è pesante è pesante ma è un di non saprei non saprei le pubblicità mi ritardo la risposta non non le vedo io la pubblicità quindi purtroppo le manda direttamente google quindi non non so come funziona lato utente però tanto insomma sto dando un bel po di tempo per per guardarlo ho letto prima il gdpr mi pare fosse il minore di anni 14 sicuri benedetta letto il gdpr ho letto un'altra normativa punto interrogativo intanto esercitare il trattamento dei dati non mi sembra ben formulata la domanda non si contesta la domanda cristina detta la pignola si risponde eliminando quelle sbagliate quella che rimane è la risposta da dare senza contestazioni io mi sono letto tutto il gdpr 99 articoli più i considerando mi raccomando non fate l'errore nelle norme comunitarie di leggere gli articoli e non i considerando cosa che si fa invece nelle norme nazionali nelle norme nazionali noi guardiamo gli articoli non guardiamo le premesse perché sono poco esplicative mentre nel diritto comunitario sono più importanti quasi dell'articolato e sono più lunghe sono 250-270 considerando a fronte di 99 articoli spiegano molto molto meglio ok vediamo un po' bene allora vediamo che una buona fetta di voi ha indovinato qui l'errore che poteva trarre in inganno era ovviamente il garante per la privacy da chi viene esercitato il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 16 anni alla luce della disciplina del regolamento allora vi faccio a chi quel 16% che ha risposto garante per la privacy fatevi questa domanda quanti sono i minori di 16 anni in italia? a cazzotto eh? 2 milioni? 3 milioni? facciamo 3 milioni? secondo voi il garante per la privacy per 3 milioni di persone esercita il trattamento dei dati personali? il garante è formato da 4 membri? è assurdo ok quindi quando vi dico traducete semplicisticamente la domanda ma di che stiamo parlando? stiamo parlando del solo garante nazionale che tratta i dati di 3 milioni di ragazzi è ovvio che i genitori la A è sbagliata non è solo dal padre ma chi esercita la responsabilità genitoriale che possono essere i genitori possono essere i nonni possono essere qualsiasi altro soggetto in base alla disciplina sul diritto di famiglia potrei sapere quando ci saranno i prossimi incontri? no non perché non lo puoi sapere ma perché non lo so nemmeno io quindi svegliatevi presto domani mattina perché non escludo non escludo di fare la seconda parte domani mattina presto ok sarò buono non alle 4 ma potrebbe essere presto e intanto abbiamo visto appunto questa risposta adesso andiamo alla 9 9 la 9 ci dice il conto economico dell'amministrazione comunale è composto secondo criteri di competenza economica e contiene gli elementi negativi e positivi in particolare sono elementi positivi i proventi dei servizi pubblici le insussistenze dell'attivo e gli oneri straordinari l'età minima per il gdpr è 16 anni ma gli stati membri possono abbassare l'età per i servizi delle comunicazioni e l'italia l'ha abbassata a 14 anni ecco perché diceva attenzione quello che uno si ricordava non era il gdpr ma il 196 del 2003 più o meno anche ora no 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 presto quando tanto voi vi svegliate alle 4 quindi dalle 4 in poi potrebbe esserci non ve l'assicuro non ve l'assicuro perché ho da organizzare la trasferta mentre voi rispondete intanto al quesito poi vi ricordo per chi di voi vuole venire a seguire la trasferta a Galatina allora qui abbiamo insomma una bella maggioranza di voti non l'unanimità prof ma domani è domenica per uno studente non è mai domenica e ci si sveglia alle 4 anche la domenica e io mi dispiace a volte sono molto rude nel dire queste frasi ma domandatevi e la dico sempre se io che non ho bisogno di vincere il concorso la domenica mi sveglia alle 4 perché voi che avete bisogno di vincere un concorso non vi svegliate alle 4 punto esclamativo non ci sono altre cose Francesca io vengo a Galatina yeah Francesca mi raccomando vieni a cercare mi dici sono Francesca ti ricordi che non assicuro di ricordarmi di tutti però ci facciamo una bella foto e ci facciamo un bel saluto e due chiacchiere io sono sveglia la prossima settimana all'orale in regione aiuto io vengo a Galatina da Bari eh ci manca Bari passerò da lì faccio un po' di sfrisio allora tutti a Galatina ok ma le 8 ore 8 ore di sonno concetto incompatibile allora terminiamo il sondaggio che vede non l'unanimità ma i particolari sono elementi positivi ovviamente qui la parola chiave positivi proventi ok proventi vuol dire è sinonimo di positivi prof a Napoli verrà sì poi si fa il tour in tutta Italia piano 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 intanto Rudy dice ragazzi alzatevi alle 4 e non fate arrabbiare i prof eh perché se no Carlo mi dice San Valentino Torio yes tengo parenti a San Valentino Torio intanto mi dicono pasticciotti rustici penso si riferisca ai prodotti tipici di Galatina me l'hanno già accennato infatti è da due giorni che non sto mangiando perché ho l'impressione che fra l'altro non vado solo a Galatina ma saremo a Rio Nero in Vulture l'8 marzo per chi di voi c'è e ora poi vi mostro il link ora finiamo la decima così poi vi chiedo non andate via quante ne avete indovinate intanto siamo 274 un'enormità come definisce il decreto 33 2013 il diritto di chiunque di richiedere documenti informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione da parte della PA pur essendo obbligatoria accesso civico indagine conoscitiva consultazione speciale leggete bene la domanda ecco qua stanno arrivando le risposte Rudy 9 su 9 adesso scivolo sulla decima valletta bene la decima facilissimo facilissimo si vincono i concorsi anche senza svegliarsi alle quattro ci mancherebbe altro non ho detto questo non ho detto questo per cui fate quello che ritenete più opportuno a chi mi chiede consigli do i miei consigli a chi mi segue e considerando diciamo qualche migliaio di studenti la maggior parte dei quali ha seguito tutti i consigli compreso quello della mattina presto ha avuto ottimi risultati anche chi non l'ha fatto ci mancherebbe ma statisticamente molti di più quelli che l'hanno fatto allora terminiamo il sondaggio e qui per la prima volta abbiamo no 93% adesso vi metto io il sondaggio quante ne avete indovinate 10 su 10 allora 10 9 8 7 o meno scrivetelo non nei sondaggi scusate non nella chat ma ecco nel sondaggio così ci rendiamo conto se qui si poteva fare 10 su 10 ovviamente insomma chi non aveva studiato il tuel poteva fare anche 7 su 10 non andate via perché poi facciamo altri quiz quindi un altro qualche minutino ce lo dedichiamo mentre magari ordinate le pizze 9 su 10 Michele e non ho ancora aperto i libri ottimo non li aprire se segui le mie indicazioni come vi ho detto il metodo Cima non si studia sui libri i libri si prendono alla fine o addirittura non si prendono il prefetto fu fatale e non vi leggemmo innante intanto abbiamo attenzione attenzione adesso vi mostro il sondaggio di quelli che hanno risposto scrivetelo non nella chat scrivetelo nel sondaggio quello alla riga in blu perché ci serve a capire le statistiche quindi a capire se 9 è buono o cattivo ok sono arrivata tardi ma stasera recupero le altre domande assolutamente nessun problema prefetto malefico vi ha fregato certo intanto benvenuta Federica fra gli abbonati mannaggia al prefetto ora c'erano tutti col prefetto state attenti non lo dite troppo spesso magari vi intercettano la chat e non capiscono che vi state riferendo a una domanda e poi si finisce tutti nei guai e viva il prefetto e viva lo Stato ne ha sbagliata una che sapevo solo perché mi sono messo a fare le pulce alla formulazione della domanda eccola lì Cristina detta la pignola una delle cose mi aiuta questa osservazione che io faccio sempre molto spesso gli studenti bravi quelli che hanno un'elevata preparazione i laureati in giurisprudenza che sanno bene il diritto sbagliano più di quelli che magari non hanno questo background perché tendono a concettualizzare a pensare troppo a quiz che spesso sono più banali di quanto loro pensano e quindi questo crea un problema sui quiz non ovviamente sulle risposte aperte ci sono tanti altri vantaggi in altri in altri contesti allora vi dico che il 41% 40% non tantissimi ha risposto a 10 su 10 un quiz facile oggettivamente medio facile il 25% 9 il 20% 8 da 8 in giù non si passava 9 si rischia di non passare ok perché perché il 40% di 250 quanti siamo se la preselettiva prende i primi 50 si è fuori allora vedete come a volte una domanda può fare la differenza dove andate a rio nero in vulture adesso ve lo faccio vedere e poi facciamo le altre cose quindi vi ricordo per chi di voi ci fosse a Galatina il 10 l'11 marzo mattina polizia amministrativa e sanzioni benvenuta Federica a livello professionale il pomeriggio codice degli appalti vecchio e nuovo e la mattina del sabato 11 redazione degli atti l'iscrizione obbligatoria è gratuita ma iscrivetevi perché stanno concludendo le iscrizioni perché il numero chiuso sono insomma ce ne è tanti ma sono al numero chiuso l'altro incontro è questo anche questo gratuito gratuito ringrazio Vito che ha organizzato tutto quanto alle cantine del notaio via Roma 159 Rio Nero in Vulture con il programma diritto amministrativo pubblico impiego appalti sarà all'aperto diciamo open space poi dalle 17 all'interno delle cantine con una bella location e sarà nel viaggio che faccio per andare giù poi vi mostro anche nei prossimi giorni il tragitto ma c'è qualcosa su ECM no enti pubblici non economici ECM è un'altra cosa ancora non so se sono due domande distinte bene bene mi piacciono i vostri commenti allora andiamo a fare qualche quiz di diritto amministrativo scrivetemi nelle risposte le risposte che ritenete errate io adesso vado a leggere ok scusate eccolo qua ai sensi del regolamento del senato se si accerta all'interno delle commissioni la mancanza del numero legale il presidente qual è l'opzione che volete cancellare per prima quella più sbagliata no non ci sono corsi ECM sanità rinvia la seduta entrano oltre 30 giorni dall'accertamento sospende la seduta per 20 minuti rinvia la seduta al primo giorno non festivo o rinvia la seduta a data da destinarsi questa è tosta verrò anche a Genova non vi preoccupate intanto Rossella chiede qualcuno parte da Taranto che facciamo un'unica macchina ottima strategia usatela nei gruppi anche Telegram anche dopo questa diretta magari per risparmiare e essere anche più ecologici quindi da questo punto di vista assolutamente per concorso entro locale istruttore C quale corso mi conviene seguire sul diritto tributario COD 081 COD 081 Galatina posso partecipare solo ai dipendenti no 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 è aperta a tutti quanti il convegno di Galatina vediamo un po' qualcuno dice sospende la seduta per 20 minuti vediamo un po' se è quella sbagliata e no e no e invece era quella giusta anche se in questo caso vedete era la più diversa dalle altre però io avrei scartato come prima ipotesi rinvia la seduta entrano oltre 30 giorni dall'accertamento è una roba impensabile i lavori del senato si svolgono quotidianamente almeno 3 giorni la settimana anzi ora si svolgono su 5 giorni la settimana quindi pensare a 30 giorni è roba enorme rinvia la seduta il primo giorno non festivo ci poteva stare ok rinvia a data da destinarsi sembrava improprio quindi avrei scartato la prima e la quarta come le più improbabili rimaneva il primo giorno non festivo che ci poteva stare che ci poteva stare perché insomma è nell'immediato è nell'immediatezza e invece sospende per 20 minuti perché che cos'è il numero legale il presidente di una commissione del senato cosa fa la commissione è formata da 21 membri ce ne devono essere almeno 11 per poter discutere un parlamentare alza la mano e dice si fa la conta eh siamo 10 sospendiamo 20 minuti e andiamo a chiappare il parlamentare che alla buvetta a mangiarsi il panino fallo entrare e si prosegue i lavori ok questa è la logica dei 20 minuti perché magari è andato al bagno ok anche vi do una notizia importante anche i parlamentari vanno al bagno e magari appunto aveva fatto venire meno il numero legale farà qualche diretta durante il tour sì farò qualche diretta diciamo di spostamento di curiosità fra l'altro martedì ci sarebbe il TG che non posso fare non sono fisicamente insomma sono da parenti mi sembra brutto però qualcosina qualcosina sto pensando di fare allora andiamo a vedere un nuovo quiz lo facciamo di diritto amministrativo fornire se richiesto un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e solverniarne lo svolgimento è compito del responsabile del trattamento responsabile protezione dei dati garante della protezione o titolare del trattamento cosa scartereste cristina dice una volta ho visto un consiglio comunale in cui hanno fatto la stessa cosa certo il regolamento sul consiglio normalmente prevede la sospensione anche in questi casi perché vi do una notizia anche i consiglieri comunali vanno al bagno ok tenetela per voi a data da destinarsi fra l'altro era una bellissima espressione medievale a data da destinarsi non la usate nei provvedimenti allora vedo che qui iniziano a dire scarterei la io vi chiedo solo cosa scartare quindi scartereste la C il garante solito discorso che abbiamo fatto prima fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto di un singolo ente pensate 30.000 enti che dovessero chiedere al garante il parere sulla valutazione d'impatto quello va da di pazzo ok quindi non può essere il garante deve essere un organo un organismo un soggetto interno vedo che qui poi c'è molta differenziazione Agatha scarta la D Rudy scarta la B o non so se dice la B non mi scrivete cosa volete dire scrivete cosa volete scartare se no vi mando a quel paese allora si scarta il titolare del trattamento giustamente perché perché chi chiede il parere mi devo domandare ma il parere chi lo chiede e lo chiede il titolare del trattamento è lui il responsabile quindi non può anche lui fornirsi il parere perché altrimenti ha dei problemi psichiatrici seri quindi rimangono le due più simili tecnicale le due che iniziano con la stessa parola cosa si scarta adesso vediamo un po' che cosa scartereste vi ricordo che la B è il DPO il responsabile della protezione dei dati è che quello chiamato unico caso attenzione unico caso a esprimere parere sulla valutazione di impatto la cosiddetta DPA o PIA ok chi di voi non ha seguito i miei video su sul GDPR vi metto il link ne ho fatti a decine gratuiti sulla online eccolo qua ne trovate a decine bene ne facciamo un altro oh siamo 197 in diretta 197 like grazie saluto la curva e ringrazio allora in base alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza e alle pubbliche amministrazioni il conferimento degli incarichi operato direttamente dall'amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza è disposto dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi predeterminati è vietato in ogni caso non può essere disposto nei confronti di società che svolgono attività di impresa non può essere disposto nei confronti di società che svolga l'attività commerciale quale scarteleste caratteri più grandi sì mi scuso vediamo un po' se riesco a ingrandire purtroppo non più di tanto perché ora ho fatto un disastro eccolo qua no più di questo non si può ingrandire ve li ho letti per facilitarvi ma non si può ingrandire quindi o yes puglia mi saluta che quindi ti aspetto a Galatina chiunque tu sia yes puglia allora tu quasi tutti mi dicono via la B e io tolgo la B è vietato in ogni caso il conferimento di incarichi si può fare quindi il dipendente può svolgere incarichi esterni per fare altre attività andare a conveni quello che faccio io a Galatina è disposto dai rispettivi organi secondo criterio oggettivamente determinati sembrerebbe giusta può essere disposto nei confronti di società che svolgono attività di impresa o commerciale ma non di persone fisiche vi convince la C può essere disposto nei confronti di società ma non di persone fisiche mentre la D non può essere disposto nei confronti di società che svolgono attività commerciale e quindi al contrario a favore di persone fisiche vediamo un po' quale potrebbe essere quella è questa diciamo che va scartata non c'entra niente la differenza fra persone fisiche e società che danno che conferiscono l'incarico e ovviamente anche quella non può essere disposta nei confronti di società che svolgono attività commerciale mentre è procedurale è disposta all'autorizzazione da parte degli organi secondo criteri oggettivi e non di favoritismo in un senso o nell'altro ne facciamo un'altra poi una piccola sorpresa finale e poi vi libero per la scena ai sensi del decreto 267 alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provvedono solo i comuni gli enti locali nelle rispettive competenze esclusivamente le regioni esclusivamente lo Stato cosa ti toglie è bello perché nonostante tu dica non scrivete quella giusta scrivete quella sbagliata è uno dei difetti dell'era moderna ai miei tempi quando il docente diciamo quello che dava istruzioni dava un'indicazione si stava attenti e si rispettava ora c'è più anarchia sbagliate ok vedo che scarterei allora qui secondo il tecnicale si dovrebbero scartare esclusivamente esclusivamente e solo non a caso le parole esclusivamente esclusivamente e solo sono quelle che rendono sbagliate le relative risposte allora io prenderei questa domanda e affronterei velocissimamente per chi di voi non ha seguito le mie dirette che ho fatto nei giorni scorsi con Chiarelli interroga e Chiarelli corregge l'intelligenza artificiale chat GPT gli domandiamo ai sensi del decreto 267 del 2000 vediamo un po' se si riesce ad allargare questo ok ci riusciamo ai sensi del decreto 267 del 2000 qui posso anche rimettermi nella mia classica posizione in basso alla gestione provvedono secondo il decreto la gestione che hanno per oggetto la produzione è affidata alle autorità locali in particolare il comune responsabile di gestione dei servizi pubblici compresi quelli della produzione di beni eccetera eccetera inoltre il comune ha il compito di garantire la partecipazione della gestione allora che cos'è chat GPT è uno strumento gratuito al momento c'è anche la versione vedete upgrade to plus a pagamento uscita da pochissimo della cosiddetta intelligenza artificiale dietro c'è diciamo un robot che è in grado di dare una serie di risposte provate a dirmi qualche argomento che volete affrontare e lo sviluppiamo così per farvi vedere come utilizzarlo in modo intelligente ok non ci si scrivono libri non ci si fanno tesi non ci si fanno risposte ma si può utilizzare in modo intelligente andando a correggerlo perché non è perfetto anche se è buono nell'ambito giuridico chi di voi non l'ha visto sul mio canale youtube trova due o tre video dove commento questo aspetto vediamo un po' se mi date qualche spunto di argomento da affrontare in cui io gli faccio una domanda altrimenti la prendiamo allora parlami del piau ok parlami del piau l'ha azzeccata subito il piano è uno strumento previsto dalla normativa italiana che ha lo scopo di coordinare e integrare la programmazione dell'attività di servizi pubblici locali fra più comuni questa è una bischerata al fine di garantire la gestione efficiente dei servizi pubblici a livello territoriale bischerata il piau si basa sulla definizione di un quadro strategico condiviso tra comuni interessati questa l'ha tirata la sbagliata vedete l'importanza di avere la preparazione e capire anche dove va sei sicuro? è al maschile? ok non rispetta la parità di genere quindi mi rivolgo a lui al maschile sì sono sicuro no no ma no no non è previsto dal dlgs 267 267 del 2000 vediamo se si scusa mi scuso per l'errore della risposta in effetti il piau non è previsto dal 267 ma da altri in dati normativi oh e iniziamo a ragionare non è il 42 2019 no no ti sbagli il piau non è previsto dal 42 2009 ma da una normativa più recente e me la devi dire te ok? hai ragione mi scuso nuovamente per l'errore il piau è stato introdotto alla legge 56 2014 eee buona questa è la del rio allora qui diciamo che su questa non ci ha azzeccato considerate una cosa a discolpa di chatbox chatbox arriva soltanto al 2021 quindi non ha non ha le informazioni dopo il 2021 quindi il piau non ce l'ha quindi ci prova ma gli ho fatto una domanda ora che ci ripenso mentre differenza fra discrezionalità e merito amministrativo ovviamente questa la deve sapere perché è 100 anni che si parla è troppo generale no no proprio deriva dal fatto che ha la banca dati ferma al 2021 volontariamente perché l'upgrade ovviamente a pagamento arriva al recente abbia pietà di lui no che abbia pietà di lui lo butto fuori lo butto fuori considerate che io non so fra quanto qualcuno di questi prenderà il vostro posto in qualche amministrazione quindi bisogna pretendere il meglio la discrezionalità sono principi fondamentali la discrezionalità è la facoltà il merito è in sintesi guardate questa struttura qui è fatta benissimo al di là del contenuto può essere più o meno ampio ma la struttura definizione discrezionalità merito e differenze è una struttura ottima bene io vi ringrazio vi ricordo appunto i vari appuntamenti che ci siamo detti ringrazio tutti quelli che seguono le varie dirette le varie iniziative e ci vediamo alla prossima occasione a presto grazie a tutti